direi che va bene così ci siamo ok come si va avanti con un altro unboxing naturalmente andiamo a vedere un altro pezzo adatto non andate il periodo punti di vista sicuramente un pezzo adatto a essere giocato anche parecchio sinceramente oggi facciamo l'ultima bomba l'ultima bomba dove cominciare in realtà come tutti i nostri unboxing unboxing poco perché l'ho già boxato l'ho già letto me lo sono goduto grazie ragazzi capirete magari forse lo dico anche dopo capirete perché grazie che cos'è l'ultima bomba gioco di ruolo serpentarium l'ultima grande 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 opera realizzata grazie a serpentarium post apocalittico ora post apocalittico l'ultima bomba è secondo me estremamente riduttivo perché è l'equivalente del maximum pancake of 80s proprio cioè il top del massimo del super figo degli anni 80 miscelati al fantasy una cosa tra viena plinsky e cosa volete voi con elfi e nani e esplosioni nucleari l'idea fondamentalmente è anni 80 in un mondo stile shaderan quindi in un mondo con elfi nani umani non c'è la magia catastrofe nucleare classica a parte delle luci le grandi esplosioni atomiche e abbiamo un risultato un post apocalittico con la magia e le creature fantasy l'ultima bomba vediamo che c'è dentro allora scatola bello scatolone rigido classico che hanno loro nelle loro opere utilissimo perché poi ti ricopre tutto quanto appena l'apri ti affaccia di fronte la coppia dei manuali due manuali all'interno ok manuali del giocatore e manuali del master questa è una scelta diversa dal solito che hanno fatto molto bella sinceramente sono sincero molto bella ma nel giocatore tutte 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 le cose importanti per il giocatore dalle regole della creazione del personaggio a quelle un pochettino più particolari per quanto riguarda la magia ma soprattutto come l'apri la prima cosa che trovi appena l'apri a parte il nome di grandi autori grazie curte grazie moro grazie passa grazie 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 bravissimi appena parte parte con un'avventura un'avventura che puoi giocare o in solitario o cominciare a leggere e far giocare direttamente per chi ha visto l'ultima torcia è molto simile a quel piccolo foglietto panflet che hai all'inizio da solo questa volta hanno introdotto nel manuale del giocatore manuale del giocatore bello spillato tutto a colori manuale del master manuale del master con oggetti magici ma più che altro avventure 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 mostrare avventure qui c'è tanto a giocare divise anche per difficoltà molto utile rispetto al solito oltre a queste figate con scheda sul retro e mappa di posto palitica su quest'altro fighissime ok set di dadi bello giallo da loro esplosione giallo e poi schede personaggio ragazzi schede personaggio questa volta secondo me hanno un pochettino veramente sdato perché hanno fatto queste schede gigantesche con illustrazione completa enorme tutti i personaggi e dall'altro lato la scheda fatta è completa di fatto sono 1 2 3 4 5 6 7 8 ora 8 personaggi precostruiti due manuali set di dadi pronti a giocare una bellissima opera dateci un'occhiata perché se siete amanti delle del classico film action anni 80 post apocalittico di quel periodo mend max e poi a salire non so quanta roba trovate ragazzi sia in citazioni un'opera fantastica da giocare e boh provatela e poi se passate diteci la mostra ok ciao ciao